In tempi di dissesto idrogeologico per Forza Italia una possibile soluzione è quella del ritorno alla cura dei terreni agricoli e alla tutela del patrimonio boschivo, bloccando il consumo del territorio. Per questo il gruppo forzista in consiglio regionale ha proposto una legge che si pone anche l'obiettivo di aiutare i giovani agricoltori ad accedere ai terreni di proprietà pubblica, favorendo così l'occupazione nel settore primario, uno dei traini dell'economia regionale. La difesa del consumo del suolo va intesa come salvaguardia della produzione agricola, va intesa come salvaguardia del nostro sistema agropastorale, del sistema agroforestale, quindi dissesto idrogeologico che viene tutelato, ma soprattutto oggi si stanno scrivendo le norme che ci danno la possibilità di aiutare i giovani ad inserirsi in agricoltura o quelli già inseriti di una concentrazione fondiaria importante. Questa è una legge snella, veloce, che fa tutte queste cose messe insieme. Una legge tra l'altro al costo zero? Una legge veramente al costo zero perché parliamo di individuare i terreni, di fare una mappa del territorio, di capire la primerizzazione dei nostri territori, vedere quali sono quelli abbandonati, quella parte della forestazione che possiamo andare a recuperare per tutelarla e soprattutto interveniamo con i fondi europei che quindi sono a carico della Comunità Europea e già sono stati assegnati alla Regione Abruzzo.